Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e come promesso dalla live di poco fa, di all'incirca un'ora fa, andremo a vedere chi aiuterò oggi a fare questo benedetto glitch dei soldi. Purtroppo sono stato costretto a fare questa procedura, quindi se volete maggiori informazioni andate a vedere la live di poco fa e capitate perché sto facendo in questo metodo. Quindi andiamo a vedere, andiamo a caricare random picker e andiamo a selezionare l'url del video. Allora ragazzi, per vincere i requisiti sono gli stessi di tutti i miei contest, bisogna essere iscritti al canale, lasciare mi piace, avere il canale pubblico, condivisioni, cazzi e mazzi. Quindi andiamo a vedere, qui abbiamo Filippo Lucari ragazzi, abbiamo Filippo Lucari e andiamo a vedere se ha tutto in regola, se è pubblico e tutto il resto. Ci mette un tantino, aspettiamo un attimo, perfetto, Filippo Lucari, eccolo qui. Allora ragazzi, qui abbiamo l'iscrizione, ne ha una sola, ma benissimo, magari è un nuovo iscritto e ha più di qualche condivisione. Buon per lui, buon per lui, anche perché non è arrivato sul canale. Bene, mi fa piacere, mi fa piacere che abbia vinto, come mi fa piacere se vincesse qualcun altro. Insomma, ragazzi, detto questo, il video finisce qui, un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao a tutti!